Incentivi per le funzioni tecniche ex articolo 113 del decreto legislativo 50. Facciamo un po' il riepilogo della situazione. Voi sapete che questi incentivi sono erogabili alle condizioni previste ai soggetti indicati dall'articolo 113 e abbiamo avuto una linea di spatti acque, un crinò come direbbero i greci. Fino al 2017 quelle risorse erano necessariamente nell'ambito dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale, quindi con vincolo 2016. Dal 2018, per effetto è stata in vigore la legge di bilancio, la Corte dei Conti finalmente in sezione dell'autonomia ci ha detto che quelle risorse stanno fuori dal vincolo. Quella linea di discrimine non è una linea di discrimine soltanto, è temporale, ma dobbiamo interpretarla. Cosa vuol dire che dal 2018 stanno fuori dal limite e nel 2017 stanno nel limite? Qualcuno ha interpretato dicendo che quello che pagano nel 2017 sta fuori dal limite, quello che pagano nel 2018 sta fuori dal limite. Non è così, secondo me. Sulla base del consolidato orientamento delle Corte dei Conti, anche in sezioni riunite, ma soprattutto anche recentemente del presidente dell'ANAC, tuttora Cantone, il diritto al riconoscimento dell'incentivo nasce nel momento nel quale l'attività è effettivamente compiuta. Questo cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che il discrimine 31-12-2017, 1 gennaio 2018, devo verificarlo con riferimento al momento nel quale l'attività incentivabile è stata materialmente compiuta. Allora, ci sono alcune attività che sono facilmente identificabili in un momento, con l'auto, predisposizione sostanzialmente dell'attività di programmazione, perché poi, come dire, si traduce in un piano triennale, no? O-piennale. L'attività del RUP è un po' più difficile collocare un ambito temporale, perché si sviluppa su un determinato periodo. Allora, se quell'attività si è svolta sostanzialmente, ad esempio, tra l'anno 2017 e l'anno 2018, ci vorrà qualcuno che dichiari quale percentuale è stata fatta prima e quale percentuale è stata fatta dopo. Qualcuno ha usato anche come criterio la data dell'affidamento, ma non è così, non può essere quello. Perché, ripeto, il diritto all'incentivo, se l'attività è incentivabile, nasce nel momento in cui quell'attività è materialmente compiuta. E' ovvio che non può capitare, come ho visto, ma voi non fareste mai cose di questo tipo, che uno si autocertifica quando la quota percentuale di attività che ha fatto in un periodo è quello dell'altro. Perché se uno è coinvolto, c'è un principio generale dettato dall'articolo 6bis della 241, che quando uno è direttamente coinvolto su un procedimento deve astenirsi. E voi dite, chi è che fa quella roba lì però? Se non la può fare colui che è responsabile e che sapeva materialmente come sono andate le cose, e purtroppo, signori, negli enti soprattutto di minore dimensioni, vabbè, se sono i dirigenti, il problema non c'è, perché tal più i dirigenti non hanno diritto al compenso, quindi non c'è problema. Dove non ci sono i dirigenti, acquisisce tutta la documentazione necessaria a un soggetto che è quello che ha il potere sostitutivo e che deve intervenire nel caso, come dire, ci siano le condizioni e secondo me difficilmente può non essere il segretario, ve lo dico spassionatamente. Poi capisco che è un bel problema, ma... Quindi, sugli incentivi i termini temporali sono questi. A questo punto si tratta di capire, diciamo, dal 2018 in avanti come applicarlo. Luca Arcones ci ha detto che dal punto di vista contabile, ne parlavamo prima all'inizio della giornata proprio, l'operazione dei soldi che sono collocati sul titolo secondo deve essere, come dire, parificata passandoli ovviamente sul titolo primo, quindi impegno nei confronti di se stessi e accertamento per evitare la duplicazione dell'impegno, ma queste sono cose che voi sapete perfettamente e non c'è bisogno che io le approfondisca. Il problema vero è quello che riguarda sostanzialmente le condizioni che possono giustificare è il riconoscimento di questi compensi. Prima questione. L'affidamento deve avvenire mediante procedura competitiva, ancorché semplificata, ma una procedura competitiva formale. Cosa vuol dire? Che deve essere almeno una procedura negoziata. dove ci sono più soggetti, ci vuole una gara, ancorché semplificata. Per capirci, proprio ieri la Corte dei Conti del Veneto ha risposto a un quesito in questi termini che avevano messo nella documentazione, l'affidamento fino a 150.000 euro dei lavori che è sulla base del decreto sblocca cantieri, i vostri uffici tecnici possono fare con affidamento diretto previa acquisizione informale di almeno tre preventivi, quella non è una gara, quello è un affidamento diretto. E siccome da voi so che non capitano queste cose, ve lo dico, che non può accadere come è capitato in alcuni enti dei quali mi hanno chiamato gli amministratori, perché poi mi chiamano i funzionari, gli amministratori, io sono sempre un po' in difficoltà a trovare degli equilibri tra le cose, ma l'altro giorno mi ha chiamato un povero sindaco di un ente piccolo, peraltro, nel quale dice scusami ma io ho bisogno necessariamente di fare rapidamente questo intervento, è un intervento banale di manutenzione che avevano promesso i cittadini, ma io mi metto anche nei panni degli amministratori, intanto capita pure che qualcuno, come dire, debba rispondere delle cose e dice, sono andato dal mio tecnico, gli ho detto, senti, fallo rapidamente, è la precedenza su tutto, perché ho bisogno in qualche modo di, perché c'è la gente arrabbiata, già no, 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 devo fare una procedura negoziata, e lui, poveretto, aveva sentito girare nell'aria che fino a 150.000 euro il valore non era, era in febbrazione di 150.000 euro, si poteva fare l'affidamento diretto, gli ho detto, scusami ma perché non fai l'affidamento diretto, è bello bello, l'ingegnere gli ha detto, è perché non prendo l'incentivo, che voi dite, ah ma questi casi non possono accadere, è che accadono, vi posso assicurare che accadono, quindi prima questione, procedura di gara formale, deve esistere anche qualche semplificata, ma ci vuole una gara obbligatoriamente, seconda questione non marginale, riguarda gli affidamenti di servizi e forniture, sui servizi e le forniture, attenzione, 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 perché il comma 2 dell'articolo 113 dice che gli incentivi per le funzioni tecniche sono riconoscibili anche per l'affidamento di servizi e forniture, ma a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto. In assenza della nomina di un soggetto distinto dal RUP come direttore dell'esecuzione del contratto, non è possibile arrugare l'incentivo a nessuna delle figure coinvolte, quindi è una condizione, come dire, vincolante, necessaria e sufficiente. C'è un principio generale che va considerato, a parte fatto il rispetto che c'è questo parere del Corte dei Ruzzi del Vento 201-2019 di ieri che dice, che ho letto ieri, dove si dice chiaramente, signori, la regola del gioco è quella delle linee guida 3, punto 10, punto 1 e punto 2. Il principio generale è quello che i procedimenti amministrativi devono essere semplificati, o meglio, devono essere semplici, per definizione. Non è che io nomino un direttore dell'esecuzione del contratto come lo voglia io, perché c'è un principio di semplificazione del procedimento amministrativo. Allora, nominare un direttore dell'esecuzione del contratto significa, ovviamente, individuare un soggetto distinto dal gruppo, cosa che non è sempre facile, peraltro, negli enti di minore dimensioni e soprattutto deve essere motivato dalle caratteristiche dell'affidamento che faccio. A meno che non sia un affidamento complesso di servizi o forniture complesse. E l'ANAC fa un elenco, sostanzialmente, tre punti, dice, per la complessità. Dice, ambito, sostanzialmente, che riguarda una tipologia diversa e distinta di servizi. Fa l'esempio, ad esempio, dei servizi di pulizia, sanificazione in area medica, sterilizzazione, non è la pulizia, è una cosa ben diversa. Fa l'esempio degli ambiti informatici per alcuni aspetti di particolare complessità e poi fa un esempio che i nostri tecnici invocano sempre e dicono, tecnici ma anche gli altri dipendenti, dicono, nel momento in cui sono coinvolte più strutture dell'ente, quindi non necessariamente la struttura che fa l'affidamento. L'altro giorno un vostro collega mi ha detto, vabbè, l'affidamento dei servizi di pulizia riguarda tutte le strutture dell'ente, perché la pulizia la facciamo in tutti gli uffici. Allora, io poi vi consento di argomentare tutto quello che volete, firmate voi, ma se io fossi nei vostri panni ritengo di poter affermare che di servizi e forniture davvero complesse, secondo quanto dice il codice e secondo quanto dice l'ANAC, negli enti locali anche di maggiori dimensioni non ce ne sono. Negli enti di maggiore dimensioni ci si salva col vincolo dei 500 mila euro, ma in casi diversi io direi sostanzialmente che non è per nulla prudente e prevedere incentivi. Inizialmente questa posizione l'aveva tenuta la Corte dei Conti del Lazio, altre erano state più, come dire, possibiliste, ora ormai la posizione è granitica. Quindi sotto i 500 mila euro per servizi e forniture, mi dispiace, non ci sta. State attenti anche che la Corte dei Conti, in sezione dell'autonomia, ci ha chiarito finalmente, io dico, perché in effetti era un bel problema che gli incentivi per le funzioni tecniche non sono erogabili nel caso di concessioni, perché in effetti non c'è sostanzialmente il capitolo sul quale imputare, quindi sostanzialmente. Addirittura la Corte dei Conti di Lombardia aveva detto che non era, che si poteva prendere a base di calcolo non il canone, ma addirittura come dire, il valore complessivo della concessione, vista l'intervazione di questo tipo alla stazione dell'autonomia, che ogni tanto fa anche delle cose che in qualche modo sono dettate non sempre dal diritto, ma dalla ragionevolezza, a volte anche no, ma ha detto non se ne parla nemmeno. Gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere riconosciuti soltanto nel caso di appalti, non nel caso di contratti di concessione. Per l'amor del cielo che non accada nei vostri enti, ma lo so che non accade, che qualcuno si autoliquidi gli incentivi. Ma non se ne parla nemmeno che uno si autoliquidi dei compensi. Uno non può trattare dei procedimenti che riguardano le persone con le quali ha abituali frequentazioni e si liquida da solo dei soldi. No, ma scusate. Diciamo che è un atto meramente attuativo, una bella miseria è un atto attuativo erogare degli incentivi. C'è una serie di condizioni che sono rigorosissime e che vanno attestate e le attesto io per me medesimo. No, scusate. No, perché poi sento anche ragionamenti, so che voi non lo fate, ma ragionamenti di questo tipo, vabbè, ma se li paghi tu, ti assumerai tu la risposta. No. Non può funzionare così. erogazione di questi compensi. Vedete, uno si autoeroga, si autoliquida. Al netto degli oneri riflessi siamo tranquilli. E l'IRAP? Allora, anche recentemente, ve lo metto nel materiale, c'è una chiarissima sentenza, a parte il fatto che le sezioni riunite già nel 2010 erano state, no, non chiare dal punto di vista della formulazione che era fraintendibile quella cosa lì, però l'avevano detto fin da subito sostanzialmente, che l'IRAP non è sostanzialmente a carico del dipendente, ma quando io ho un ammontare complessivo a disposizione e non posso superare questo aumentare, la prima operazione che faccio è scorporo l'IRAP, poi erogo il compenso all'ordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e poi ci applico l'IRAP, ma senza che ci sia maggiore sborso per l'amministrazione. Anche recentissimamente la Cassazione ha, come dire, chiarito questo concetto, quindi operazione con i quali si riconosce perché c'è il principio fiscale secondo il quale l'IRAP è a carico dell'amministrazione, è vero, ma l'operazione di scopo lo faccio a priori, quindi è a carico mio, mi tolgo dalla quota che ho a disposizione dell'IRAP e poi la pago io, ma la tolgo dalle insomme che ho a disposizione. Questo vale anche per i diritti di segreteria del segretario comunale, so che ci sono tra i segretari e tra di voi, ma non ci sono dubbi sotto questo punto di vista. E situazioni che so che voi non attuate, ma che non si possono attuare, che dicono ti do il compenso senza scorporare l'IRAP, perché parte certa giurisprudenza contabile ci dice che possiamo anche non scorporarlo e io mi impegno a restituirtela nel caso in cui ci sia un orientamento inequivoco che dice che devo restituirla, è contrario al 2113 del Codice Civile, cioè patti che sono in contrasto con le norme di legge, le norme contrattuali sono nulli. Certo. Cioè io non posso dire ti do i soldi ma poi tu ti impegni a restituirli, perché tu, come dire, quando io mi impegno a restituirli, quando dice allora dai ma hai detto che me li restituivi, ti dico, auguro e buona fortuna. Sapete che è uscita una deliberazione, non so ma se l'avete vista sicuramente, la numero 5 della sezione dell'autonomia del 2019 che ha detto io ho tacciuto l'esistenza di quella deliberazione fino ad oggi perché poteva ingenerare qualche dubbio, qualche problema. Loro dicono sostanzialmente che gli incentivi, scusate no, i compensi derivanti dalla quota parte di risorse derivanti dalle entrate contravvenzionali ai sensi del 208 del corso della strada, stanno, come peraltro a questo punto dice chiarissimamente anche il contratto nazionale, l'articolo 67, nell'ambito dei vincoli del 2016. Ce l'aveva già detto, la Corte dei Conti erano i famosi 15,5, adesso 67,5 da destinare agli operatori della polizia locale. In quella pronuncia però che chiedeva molte cose, la Corte dei Conti dice anche possono star fuori dal vincolo 2016 soltanto i maggiori introiti effettuati rispetto all'anno precedente e quindi se nel 2018 ho introitato, ho riscosso 10 e nel 2019 riscuoto 11, questo 1 riparametrato, redistribuito secondo le regole del 208, quindi al massimo il 50% del 50%, può essere destinato a progetti per lo sviluppo dei servizi della polizia locale in deroga al vincolo 2016, a condizione che gli operatori, udite udite, siano chiamati a svolgere attività suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro. Cosa vuole dire? Su questa linea, ve lo dico adesso, non avevo parlato prima che accadesse questa cosa, purtroppo si è allineata un po' troppo, hanno fatto bene perché hanno interpretato la sezione dell'autonomia e si è allineata la Corte dei Conti e la Lombardia, la vostra Corte dei Conti, con il parere 369-2019, recentissimo. Allora io sono certissimo che ai vostri tavoli negoziali, quando qualcuno avrà letto questa roba qua, arrivano e dicono, oh, già fatta, già fatta, e vi dicono, adesso facciamo il calco di quello che avete introitato, che avete riscosso nel 2018, rispetto a ciò che risponderemo nel 2019, che è un'operazione perversa, 2019, quel differenziale lo ripartiamo secondo le regole del 208, la quota che è destinabile a noi, potenzialmente, sta fuori nei vincoli del 2016. Il problema vero è quest'ultima condizione che ha posto la sezione dell'autonomia e riproposta dal Corte dei Conti e della Lombardia. Cosa vuol dire che sono chiamati a svolgere attività subiettive che siano di fuori del ordinari carchi di lavoro? Certamente non si parla di lavoro straordinario, non fuori dall'orario di lavoro, che è quello che sappiamo già che genera un danno. Vuol dire sostanzialmente che con quei soldi io dovrei davvero coinvolgervi a fare delle cose del tutto nuove, in più. Allora, se inserisco un nuovo turno o se implemento quelli che ci sono, aumentando gli orari ad esempio, posso anche sostenere una tesi di questo tipo. Ma se io li destino, come capita soprattutto negli enti di minore dimensione, ma purtroppo anche nei grandi, a attività di controllo sul territorio, l'attività, quante macchine fermo in posti di blocco durante le ore serali. Quindi confermo sostanzialmente quella range di obiettivi che tra l'altro con indicatori del tutto marginali che avevo prima, secondo me diventa dura tenerli fuori dal limite del 2016. Però qualche problema si porrà inevitabilmente, perché soprattutto da niente di una certa dimensione potrebbero anche essere risorse importanti. E soprattutto i vostri operatori della polizia locale si scateneranno per fare multa a questo punto. Con misura però, perché se di anno in anno io devo aumentare, dovrò fare un lavoro progressivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.